eccoci qua nuovamente purtroppo nuovamente perché quando arrivo due volte così ravvicinato e quando mi saltano dei video che avevo programmato come la live reaction che non farò uscire perché domani abbiamo da parlare di cose più importanti come le pagelle e una brevissima analisi probabilmente della partita Juventus Monza che va già archiviata non va nemmeno analizzata come stata va archiviata dopo la giornata di domani ci saranno anche le motivazioni della sentenza che hanno attribuito 15 punti di penalizzazione alla Juventus perché dicevo purtroppo siamo di nuovo qui purtroppo è una brutta notizia quando arrivo con due video di fila perché Massimiliano Allegri ha parlato ovviamente nel post partita da Zon ed è stato un Allegri molto arrabbiato Allegri conferma sono molto arrabbiato non so se vi siete ascoltati l'intervista completa ai microfoni da Zon parla di errori parla parla di responsabilità grosse sui calciatori ma non solo perché se poi fai tre cambi a fine primo tempo significa veramente che i giocatori non ti hanno dato quello che ti aspettavi ti sei anche magari sentito tradito da da quelli che sono stati sono state le scelte da parte dell'allenatore io ora non voglio star qui a sparare su Massimiliano Allegri perché la situazione è grave gravissima lato Juventus dentro e fuori dal campo e quindi non ha minimamente logica non ha minimamente logica sedersi qui affrontare tematiche che riguardano Massimiliano Allegri che riguardano l'impronta data la Juventus che riguardano tante piccole cose che in realtà mi piacerebbe analizzare sempre sempre con voi durante l'anno anche quando le cose sono sempre andate male non mi siamo mai tirati indietro ma oggi è caduto qualcosa di siccome è molto importante poi grave o non grave lo direte voi perché dopo l'intervista ai microfoni da zone Allegri nella conferenza stampa con tutti i giornalisti davanti ha detto queste parole che ora andiamo ad ascoltare se fino a ieri e l'ho detto qui la squadra ha fatto 38 punti ora bisogna essere consapevoli e ribaltare la situazione che momentaneamente la squadra classifica di 23 punti quindi bisogna fare punti che ci portano alla salvezza minimo questa è la realtà perché se non guardiamo la realtà ci facciamo male siccome non siamo stati capaci di mentalizzare quello che abbiamo fatto 38 punti allora bisogna essere capaci di vedere quella che è la classifica reale allora io ieri qui mi sembra che ho commentato la conferenza stampa di massimiliano allegri e la conferenza stampa di massimiliano allegri pre atalante pre monza mi è piaciuta e tanto perché in questo momento di difficoltà ha detto cose che andavano ad aiutare l'ambiente quindi anche il tifoso ma soprattutto i calciatori con un po' il discorso che facevo all'interno del video post partita che ho pubblicato proprio qui sul canale subito dopo juventus monza 0 2 il video di ieri si intitolava allegri difende la juventus e juventus intesa come gruppo squadra intesa come calciatori quante volte ci siamo ritrovati a dire un allenatore certe cose deve dirle davanti ai microfoni e certe cose deve dirle nella saccharietà dello spogliatoio sono cose che devono rimanere nella saccharietà dello spogliatoio ho perso il conto ormai e se ieri vi dicevo che allegri mi era piaciuto tantissimo nel cercare di dare ai giocatori il giusto messaggio cazzo o noi abbiamo fatti 38 di punti 38 poi ce li hanno tolti questi ce li riederanno forse chissà non lo so vedremo ma noi in campo dobbiamo andarci per vincerle le partite perché sa la juventus allegri ieri dice una frase importante guardi la classifica dice 23 punti e pensi se è una squadra scarsa no perché tu hai fatto 38 punti allegri ad azon dice ho detto le stesse cose alla squadra è arrivato anche i microfoni un po dopo ora io non sto dicendo che quello che ha detto allegri non sia vero perché io in primis l'altro giorno ho fatto un video e vi dicevo rischiamo la serie b secondo me sì e confermo ulteriormente oggi questa mia tendenza questa mia sensazione questa mia sensazione la confermo anche oggi non solo extracampo ma sul campo perché se poi arriverà un'altra penalizzazione in classifica lato stipendi o se non verrà accettato il ricorso e verranno confermati questi 15 punti e se la pena doveva essere afflittiva anche la seconda sugli stipendi qui la serie b si rischia mica solo in tribunale si rischia anche sul campo sul campo e se l'allenatore della juventus arrabbiato arrabbiatissimo nero quello che è che sta vivendo una situazione terrificante pessima si è visto togliere dei punti che aveva conquistato sul campo tutto quello che volete ma se l'allenatore della juventus davanti ai microfoni si mette a dire una frase del genere che è vera verissima questa cosa diventa una bomba atomica che scoppia un disastro intorno a dove è avvenuta appunto l'esplosione e crea un buco buco nero all'interno della juventus un punto di non ritorno questa conferenza stampa di allegri un punto di non ritorno in prima battuta perché c'è tanto puntare il dito sui calciatori non abbiamo digerito non abbiamo recepito non è stato compreso non è stato capito così non andava allora proviamo cos'ha però attenzione attenzione che l'abbiamo visto che questa squadra qui a livello di testa è fragile è un castello di sabbia un castello di carte questa squadra è fragile mentalmente e tante volte abbiamo sentito dell'intervista pre partita da parte allenatore che usava e che faceva delle uscite un po particolari e i calciatori in campo questa cosa se la legavano al dito giocavano contro non erano in grado di giocare meglio dava fastidio volevano silurarlo non lo so qualcosa però è successo nella prima parte della stagione non mettiamo tutto nel dimenticatoio qualcosa è successo e poi sì il 3-5-2 poi sì non si prende la gola e poi sì le vittorie di fila ma si era anche cambiata strategia comunicativa si era cambiata strategia comunicativa perché io sono assolutamente d'accordo che oggi i calciatori abbiano delle grosse responsabilità come sono convinto che le abbia massimiliano allegri perché è inutile si vince si perde sempre tutti insieme e su numero 10 se volete scaricarvi l'applicazione il link qui sotto in descrizione ho fatto uscire il video post partita in cui elenco secondo me quali sono le responsabilità di allegri all'interno di questa partita ma un conto sulle cose che si dicano davanti alle telecamere un conto sulle cose che si dicano agli spogliatoi ai calciatori perché buttarli così nell'occhio del ciclone in questo momento nella gabbia delle tigri secondo me non è l'atteggiamento migliore soprattutto perché cito massimiliano allegri e ieri vi dicevo io sono contento di sentire allegri che mi parla dei tifosi che chiede ai tifosi di essere un tutt'uno che chiede ai giocatori di essere un tutt'uno che chiede alla società di essere un tutt'uno questa voglia di unione in questo momento complicato che è quello che serve alla juventus in questo momento complicato non puntare il dito sui calciatori in pubblico ai microfoni ai giornalisti alle pay tv ma stiamo scherzando stiamo dicendo davvero di dire una roba del genere certo che la juve in questo momento come minimo obiettivo alla salvezza certo è logico abbiamo 23 punti lo sapevamo ieri lo sapevamo prima della partita con l'atalanta quando eravamo 22 lo sapevamo lo sapevamo ma questa uscita rischia di creare un effetto domino a livello di mentalità visto considerando che giovedì giochiamo con la lasta una partita come dice allegri giustamente per forza di cose da dentro fuori una competizione contro la lasta in coppa italia che se ci va a sfumare anche un altro obiettivo che probabilmente l'unico appiglio stagionale che c'ha non solo il tifoso della juventus ma anche il calciatore della juventus perché l'europa league io non credo che il calciatore della juventus oggi sia in grado di pensare di vincere l'europa league ma non è nemmeno in grado di vincere neanche la coppa italia oggi la juventus oggi la juventus non è in grado nemmeno di vincere la coppa italia e ve lo dico in questo momento dopo queste dichiarazioni non dopo questa partita non dopo questa partita ma dopo queste dichiarazioni che sono pesanti sono pesanti per la juventus queste dichiarazioni qui pesantissime pesantissime si rischia un colpo di coda che ti riproietta nella stessa identica situazione d'inizio campionato dove potevi perdere da tutti e quasi vincere contro nessuno attenzione non focalizziamoci solo sul campo in questo momento non solo su quello che vediamo perché lì io capisco che ci possa essere un contraccolpo psicologico per quello che è successo prima dicevo nel video può stendere un elefante questo meno 15 è sacro santo che sia così ma non può ieri l'allenatore della juventus dirmi la strategia giusta è quella di pensare che abbiamo fatti 38 non buttarci giù non pensare che siamo scarsi dobbiamo compattarci dobbiamo unirci andare tutti per la stessa strada è il giorno dopo per delle colpe dei calciatori che ci sono sì come ci sono dell'allenatore dire non è vero non abbiamo più 38 abbiamo 23 dobbiamo salvarci colpa di questo questo fatto questo questo fatto un errore e no ragazzi stiamo stiamo rischiando tanto rischiando tanto in questo momento a fare questi discorsi è io sarà che tendo sempre a a darci con un occhio di riguardo su su questi argomenti che su me sono spigolosi a maggior ragione una stagione in cui la squadra ha delle grosse lacune dal punto di vista tattico non dico tecnico dico tattico dove non sono mai stato pienamente convinto di questa juve nemmeno durante le vittorie consecutive tante volte mi ha detto sì questa vittoria ma sì quest'altra vittoria ma però la prossima dobbiamo cambiare perché se non la prossima non cambiamo se in quella partita specifica non facciamo qualcuno mi ha anche preso per il culo dicendo ah si dice sempre che però nella prossima bisogna fare meglio ai ragazzi quando non vedi certe cose certo ma non stiamo nemmeno più facendo questi ragionamenti non si dovrebbe in questo momento davvero mi vende a dire che parlare del lato squisitamente tecnico tattico sia non inutile ma quasi è non inutile ma quasi perché non so nemmeno dentro la juventus questa cosa la prenderanno così tanto in considerazione ovviamente per quanto riguarda chi lavora sulla squadra perché sicuramente a livello dirigenziale in questo momento di calcio di sport di campo non ci stanno pensando non ci stanno pensando non stanno pensando di esonerare allegri toglietevela dalla testa questa cosa che fino a giugno per forza di cose in questa situazione dopo che siamo arrivati qua non si muove allegri non si muove ma queste dichiarazioni qui che vanno oltre il campo vanno oltre quello che vedi durante la partita sono pericolose anche perché banalmente allora il tifoso scusami è il tifoso della juventus in questo momento che va allo stadio riempie lo stadio lo stadio pieno lo stadio comunque che ti dà il supporto io penso ai tifosi in questo momento lo stadio che ti dà il supporto i giocatori ti fanno questa prestazione è un errore va bene ma c'è proprio un problema di atteggiamento l'allenatore fa degli errori capita che sbagli poi vai in conferenza stampa dice tutto il contrario quello che ha detto il giorno prima e punta il dito contro i giocatori quando il giorno prima aveva chiesto unione tifoso della juventus che cosa pensa tifoso della juventus che magari si è fatto 100 200 300 chilometri per andare allo stadio che si è speso 50 70 100 150 euro di biglietto si è andato a vedere una prestazione raccapricciante a livello di atteggiamento da parte di alcuni calciatori si è andato a vedere una reazione raccapricciante perché questa è una reazione raccapricciante da parte dell'allenatore che dovrebbe gestirle queste cose in primis deve essere sempre lucido perché l'allenatore della juventus non è solo l'allenatore della juventus ma anche qui e torniamo a una conferenza stampa importante di cesne dove dice è allegri che ci mette sempre un po del suo che ci tiene sempre lì in riga è quasi il nostro mental coach è quasi il nostro psicologo che cosa arriva in questo momento ai calciatori che sono stati messi praticamente a nudo a nudo davanti a una mitragliatrice perché qui sono stati sono stati giustiziati qui i calciatori della juventus sono stati giustiziati pubblicamente dalle parole dell'allenatore io le riascolto ve le faccio riascoltare ma sono parole pesanti eh sono parole molto pesanti puoi sbagliare i passaggi ma c'è ancora parolo che dice l'analisi però sono atteggiamenti che tu dai che è un po quello che stavano dicendo che a volte gli allenatori veramente ti fanno capire su poi chi puntare chi no e penso che poi allegri debba arrivare anche a questo nel suo percorso perché allegri nel pezzo che non abbiamo ascoltato dice se ci sono giocatori che non sono in grado di darmelo che stiano fuori e giustamente aggiungo io ma questa è una cosa che non può dire l'allenatore della juventus alle telecamere ai microfoni questo passaggio molto forte in conferenza stampa farà delle gerarchie ma sparare così se fino a ieri e l'ho detto qui la squadra aveva fatto 38 punti ora bisogna essere consapevoli e ribaltare la situazione che momentaneamente la squadra è una classifica di 23 punti quindi bisogna fare punti che ci portano alla salvezza minimo questa è la realtà perché se non guardiamo la realtà ci facciamo male siccome non siamo stati capaci di mentalizzare quello che abbiamo fatto 38 punti allora bisogna essere capaci di vedere quella che è la classifica reale questa è una sberla è uno schiaffo fortissimo e io non so se siamo così forti nella testa tanto per reagire alla sconfitta lato campo per comprendere la situazione lato extracampo e per digerire le parole dell'allenatore che secondo me sono molto 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 pesante concludo il video dicendo che io spero che allegri sappia quello che sta dicendo e facendo proprio perché da qui non si torna indietro io questo lo vedo come un all in clamoroso allegri non so se sta bleffando perché ha una brutta mano o ha una scala reale all'asso in mano ma allegri ha preso tutte le fisci e le ha messe sul tavolo all in come va va speriamo speriamo bene perché io ho seriamente paura arrivato a questo punto